segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te professore a proposito di iniziative anche straordinarie come quella del razionamento voglio restare ancora un momento sul tema del gas la politica la proposta politica che di cui draghi si è fatto portatore in europa quello di un tetto al gas che tradisce ogni principio di libero mercato detto al prezzo del gas è una secondo lei una proposta efficace o rischia di scontrarsi prima ancora che con la volontà dei nostri partner europei con la realtà del mercato ma è come essere a tavola e hai davanti una tigre e tu cerchi di spiegarle le buone maniere a tavola io credo che siano quelle regole troppo astratte per essere davvero applicate c'è una ragione se in europa non le vedono così positivamente ma in generale torno a dire dall'altra parte c'è una tigre e tu vuoi spiegare che prezzi deve fare come deve comportarsi se tu blocchi i prezzi allora l'altro ti vendito come dire chiaro le tigre sono le tigre sono delle creature un po strane a proposito di tigri gioco con la sua metafora un'altra tigre che ci sta mordendo è quella della crescita dei prezzi che la crisi energetica ha di fatto scatenato al momento il governo si è mosso con interventi tampone i bonus dei 200 euro gli gravi fiscali per le aziende senza però mai toccare il tema del un ulteriore indebitamento tra l'altro fu proprio draghi sul financial time a aprire la possibilità di un indebitamento a cuor leggero nella fase della pandemia a peccato di prudenza secondo lei senta io non commento quello che fanno gli altri mi limito a dire che l'inflazione è stata creata in modo artificiale violando le regole europee negli ultimi anni potevano essere sbagliate le regole però erano regole c'era scritto non puoi avere sopra il 2 per cento come tetto e non puoi avere la bce che finanzia i governi quello che è stato negli ultimi anni è stato la totale violazione delle regole europee quello che era un plafond è diventato un target un obiettivo da raggiungere sono stati così bravi che siamo l'8 per cento e poi la cosa assurda è stata l'acquisto di titoli da parte della della bce i governi emettevano titoli di debito le banche li compravano e li riposizionavano nella bce in questi anni la bce è diventata una specie di edge fund pieno di titoli tossici soprattutto è stato un periodo lunghissimo nel quale la politica ha perso ogni tipo di rilievo non così in america può essere chiaro d'accordo no ma in america la politica c'è ancora in europa quando tu vedi che tutti i capi di stato e di governo si recano a francoforte per assistere al cambio delle consegne tra il vecchio e la nuova governatrice e sono in platea da applaudire la domanda che faccio è avreste visto de gaulle a denauer de gasper in platea da applaudire ma torno a dire l'effetto vero e secondo me drammatico è stata la creazione dal nulla di una massa sconfinata di moneta priva di riscontro nella realtà ai miei tempi i conti si facevano in billion adesso si fanno in trillion allora questo ha portato la vera ok posso finire la vera causa dell'inflazione è stata questa e c'era prima della guerra prima dell'energia ovviamente le due sommate insieme sono hanno creato una combinazione terribile certo era è